Sassuolo e Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14 e Pescara a quota 12 punti. Poco tempo per ribosare, tra martedì e mercoledì torna la Champions League con l'attesa per il ritorno al San Paolo del Napoli contro il Real Madrid. Nino Siena, Speciale News.